E' stata una bellissima giornata oggi anche perché viste il meteo, le previsioni che davano brutto tempo, alla fine il tempo ha tenuto e quindi è venuta fuori una bellissima giornata di sport per la quindicesima edizione del triathlon di ESO, l'Aigerman. E' sempre un piacere e un onore venire qua a trovare gli amici di Venezia perché organizzano sempre competizioni al top e ci si diverte un sacco anche quando piove e quando non piove come oggi. Il bici è un percorso molto veloce, ho provato ad andare via ma gli avversari ne avevano quanto me. E quindi sono rientrati. Oggi ho colto un bel terzo posto, ci tenevo a far bene, è una gara che ho già vinto più volte. Poi a piedi sono partito forte e forte per cercare di arrivare il meglio possibile. Dalla sesta posizione sono riuscito a recuperare fino alla terza però c'è stato qualcuno che è andato più forte di me. Una bici velocissima e anche una corsa molto scorrevole. Tutto si è svolto nel migliore dei modi. Da capitano dell'Aiger Team nell'ottica della gara squadra e della prossima settimana sono molto contento perché il livello degli atleti Liger è alto ed è anche abbastanza omogeneo. Il successo naturalmente non è solo merito nostro ma è merito di tutte quelle persone che ci sono vicine, i nostri sponsor, i volontari che comunque ci danno sempre da fare. e danno comunque il lustro alla gara e dato soprattutto da queste persone e che voglio ringraziare in particolar modo perché sennò non si potrebbe fare nulla di tutto ciò. Oltre comunque all'amministrazione comunale di Jesolo e speriamo di poter sempre contraccambiare la loro fiducia. Per cui un grazie a tutti. Per cui un grazie a tutti.